Alla fine del miliardo di anni, lo noioso, improvvisamente la vita è esplosa. Siamo arrivati ai mammiferi. Il mesozoico, gli animali di mezzo spariscono, arrivano gli animali nuovi, il cenozoico, gli animali moderni o terziario. E qui siamo più abituati, i mammiferi si evolvono, conquistano l'ambiente, vanno in cima alle montagne, vanno in fondo ai deserti, perché nel frattempo la vegetazione era andata ovunque, perché si era specializzata in diversi ambienti. Il Pliocene è un momento di clima caldo e umido, un clima tropicale di savana. Questo è l'animale caratteristico del Pliocene, Milodondra, tigre delle denti a sciabola. Era un sanguivoro, azannava, succhiava il sangue alla preda e poi se ne andava. Cosa vuol dire? Perché aveva tantissima preda, c'erano tantissimi animali. Quando le prede sono poche, i carnivoli sgranocchiano fino a un fondo. Quando ce ne sono tante, fanno come la faina quando entra dentro il pollaio, ammazza dieci galline per levargli il sangue a due o tre. E poi c'è il zio, questo è il zio, lo conoscete, si chiama Luca. L'asta non common ancestor, cioè il nostro antenato comune tra noi e le scimmie. Risale a circa 5 milioni di anni fa, quindi allo stesso periodo in cui c'era Smilodon. Luca si sviluppa più o meno qua, all'Iso del Pliocene. Questo che vedete è il grafico delle temperature del pianeta. Vedete che nel terziario il clima era particolarmente umido e caldo. Poi piano piano la temperatura si abbassa. Nel Pliocene è ancora caldo, ma prevalentemente alla foresta si sostituisce la savana. Savana vuol dire grandi pascoli, quindi grandi mammiferi, grandi erbivori, grande disponibilità di cacciagione. Il nostro zio, che prima viveva sugli alberi mangiando la frutta, frutta molto facile da raccogliere, molto nutriente, dava un'ottima fonte di cibo, comincia a trovarsi in un ambiente che vede restringergli sempre di più la foresta e la savana si allarga. Quindi che faccio, dice lui? Posso rimanere sugli alberi, però la frutta è sempre di meno. E allora mangi i rami. Oppure scendo a terra e a terra mi do da fare per diventare cacciatore. Allora si divide in due. Il ramo robusto sviluppa delle grandi mandibole per masticare le foglie di legno, che non sono tanto buone. Un ramo gracile invece scende a terra e diventa cacciatore. Noi deriviamo da questo ramo. I primi uomini, non ve li immaginate, come degli eroi che andavano a caccia di rinoceronti, probabilmente avevano imparato a prendere delle pietre, a spaccare delle ossa e a mangiare il midollo delle ossa. Perché anche come mangiatori di carogne erano in competizione con i leoni, con le iene, con i cani. Quindi quando tutti gli altri avevano mangiato, arrivava il primo uomo, che si chiama uomo habilis, perché è il primo che ha imparato a prendere una pietra e con la pietra frantumare le ossa. E qui, due milioni e mezzo di anni fa, l'uomo si è già ben alzato, ha la postura praticamente identica alla postura nostra, fa una cosa molto intelligente, perde il pelo. Noi siamo l'unica scimmia senza pelo, ma siamo quasi uno degli unici mammiferi senza pelo. Gli altri mammiferi senza pelo sono i rinoceronti e gli elefanti, perché avendo un corpo molto grosso debbono dissipare molto i calori. Il pelo serve sì a tenerci caldi d'inverno, ma il pelo però ti impedisce anche al calore corporeo di dissiparsi. Una tigre e un ghepardo corrono a 120 km all'ora, ma non si possono raffreddare. Quindi dopo dieci minuti si devono fermare, perché il loro calore corporeo interno aumenta a un punto tale che morirebbero. Cosa fa l'uomo? Perde il pelo. Quindi acquisisce una efficienza fisica molto maggiore. La perdita di pelo consente all'uomo di prolungare una caccia per giorni. L'uomo può correre per giorni. Ora non guardate me, eh. Omo erectus era alto circa un metro e ottanta, aveva una vita relativamente lunga per l'epoca, aveva un cervello meno sviluppato del nostro, aveva una fisionomia abbastanza simile alla nostra. Quando hanno trovato i primi crani di Omo erectus, hanno visto che il calco interno del cervello di Omo erectus mostrava le impronte della zona di Broca, che è quella che sorrintende al linguaggio. Quindi Omo erectus, anche se aveva un cervello più piccolo del nostro, comunicava. Non comunicava con un linguaggio articolato, perché sempre dall'analisi dei fossili hanno visto che il forame, cioè la linea centrale della colonna dorsale, era più piccola della nostra. Quindi aveva dei fasci nervosi che non gli permettevano di articolare i muscoli del torace. Quindi parlava, ma non parlava con un linguaggio articolato, non parlava con le parole. Evidentemente aveva tipi di comunicazione gestuale, con le espressioni, come molti animali, eccetera. Omo erectus è il primo che esce dall'Africa e conquista praticamente tutto il pianeta. Se lo trovano a Java, lo trovano in Cina, tranne che in Australia viene trovato praticamente in America e in America viene trovato praticamente ovunque, in tutto il resto dell'Europa. Omo erectus va avanti almeno fino a mezzo milione degli anni fa. Mezzo milione degli anni fa c'erano almeno cinque specie del genere uomo. Ce n'è una sola oggi. Vi siete mai chiesti come mai? Mezzo milione fa il clima cambia ancora, va verso dei periodi di sempre maggiore instabilità, caldo, freddo, fasi glaciali, fasi calde, fasi glaciali, fasi calde, più o meno intervallate di centomila anni l'una rispetto all'altra. Vedremo che c'è un motivo astronomico preciso per cui ci sono queste ciclicità climatiche che in realtà derivano da cambiamenti nelle orbite solari e terrestri. Più o meno cinquecentomila anni fa comincia a svilupparsi Homo sapiens. L'Homo sapiens prende due strade. Da una parte occupa l'Europa e occupa i paesi freddi, una parte rimane nella zona africana. Neandertal conquista tutte le aree fredde, sviluppa una grande intelligenza, ha un cervello più grosso del nostro, ha una tecnica di caccia ormai assolutamente perfezionata, non dipinge, però sembra che suoni, faccia musica, perché avessero state trovate alcune ossa bucherellate come per fumare dei flauti. Quindi Neandertal è già un uomo sapiens, non è tanto bello, dobbiamo ammettere, però diciamo che se lo incontraste al supermercato vestito per bene e tutto sbarbato, riconoscereste il fatto che è un uomo. E' un grande cacciatore, ha un solo inconveniente, campa poco, vive poco, ha una vita media che non supera i 30-40 anni. Questo non gli permette di conservare la memoria, non gli permette di conservare la cultura. Uno delle nostre, delle evoluzioni più importanti di homo sapiens è stato l'allungamento della vita. Se c'è una carestia, l'individuo vecchio si ricorda che al tempo del suo nonno era successa la stessa cosa e allora si potevano mangiare anche quelle determinate radici che si fanno schifo, però ti tengono in vita. E quindi è una risorsa per la comunità. 74.000 anni fa nasce l'uomo moderno. Di nuovo un fenomeno geologico importante. C'è una gigantesca eruzione del vulcano Toba, una delle più grandi eruzioni degli ultimi milioni di anni. Indicato come Vei 8, cioè il massimo livello di esplosività. Dove c'era un vulcano c'è un lago, non ce l'ho messo la scala, è lungo 100 km e largo 50. Quindi immaginatevi un buco di 100 km causato dall'eruzione di un vulcano. Questo vulcano butta in atmosfera qualcosa come 2800 km cubi di materiale. Probabilmente questo fattore mette in crisi di nuovo l'ambiente. Riduzione dell'eruzione solare, riduzione della vegetazione, eccetera, eccetera. L'uomo arriva vicinissimo all'estinzione. Vicinissimo all'estinzione. Questo lo sappiamo perché noi siamo tutti uguali. Diversamente dagli elefanti, dalle galline, dai cavalli, gli uomini hanno praticamente tutti lo stesso patrimonio genetico. Noi, gli eschimesi, i negri, i cinesi, siamo tutti simili fra di loro. Cosa vuol dire? Che la nostra differenziazione razziale è molto giovane e soprattutto deriva da un numero di individui ristretto. Comunque sia, circa 70.000 anni fa, nasce, si sviluppa un nuovo uomo. È l'uomo di Cro-Magnon o uomo geneticamente moderno. Noi, assolutamente indistinguibile da noi, sotto tutti gli aspetti. Perché questo momento di evoluzione viene messo in relazione ad un evento catastrofico? Quando il numero di individui è piccolo, le mutazioni favorevoli hanno la possibilità di conservarsi. Il momento di popolazione molto ristretta è il momento di grande radiazione evolutiva. Siccome le mutazioni si verificano con una certa frequenza che può essere misurata, noi possiamo riandare indietro dei nostri geni, in particolare i geni mitocondriali, che sono geni tipicamente femminili, e vediamo che circa 74.000 anni fa arriviamo a convergere verso un gruppo di individui molto ristretto. Questo è quello che chiamano la Eva mitocondriale. Eva è la mamma di tutti noi, la mamma genetica di tutti noi. La nostra mamma genetica è posta a circa 70.000 anni. L'uomo geneticamente moderno riparte dall'Africa 65.000 anni fa, occupa l'Europa, arriva in Cina, passa all'America, arriva in mille anni dal Nord America, arriva al Sud America, nel frattempo distrugge tutte le megafaune, tutti gli animali più grandi di un tacchino. Lui li ammazza e li mangia. I cavalli sono evoluti in America, ma l'uomo li mangia tutti. Il risultato è che quando poi le civiltà centroamericane avevano bisogno dei cavalli, dell'energia degli animali, non ce l'avevano e si fanno conquistare poi dagli europei. Attraversa tutte le isole, Java, Sumatra, arriva 50.000 anni fa in Australia, estingue tutte le popolazioni preesistenti. ammazza tutto Neandertal, sembra che ci sia un minimo di geni Neandertal presente ancora per la studio. Noi abbiamo circa un 4% di geni Neandertal. Vuol dire che ogni tanto c'è stato qualche scambio, qualche scambio tra Neandertal e Homo sapiens. Non so se è stato un sapiens che ha visto una Neandertalina, diceva sì, un po' pelosa, ma insomma, o viceversa. Comunque c'è stata una minima contaminazione, ma lì è rimasto Neandertal, sparisce. Ecco perché noi siamo l'unico genere sul pianeta Terra che ha una sola specie, perché abbiamo mangiato tutti gli altri. Noi siamo la peggiore iattura che potesse capitare al pianeta Terra. Finite le glaciazioni, c'è un momento di relativa quiete climatica. Circa 10.000 anni fa comincia l'agricoltura. Cosa vuol dire l'agricoltura? Che l'uomo non si accontenta più di quel che gli dà la natura, vuole di più. Allora cominci a occupare dello spazio, cominci a seminare, raccogli, aumenti la tua produzione di cibo, la produzione di cibo ti serve per fare altri figli, questi altri figli ti servono per raccogliere ancora dell'altro cibo, per distruggere altre foreste, e si entra in un circolo vizioso. La popolazione del pianeta diventa 100.000 volte superiore, la vita crolla dagli 80 anni dei primi cacciatori e raccoglitori a 30 anni di media, la statura passa da un metro e ottanta a un metro e venti dei primi agricoltori, che rimanevano sempre legati a un certo ambiente, mangiavano solamente cereali, le condizioni di vita peggiorano tremendamente, nasce la proprietà privata, nasce il bisogno di difendersi. Prima il cacciatore, se aveva bisogno di un sasso, ne prendeva una, ammazzava l'antilope. L'agricoltore deve farsi il suo strumento e deve mandare i suoi figli, ma deve difendere il suo campo, perché un altro glielo vuole portare via. Allora comincia a creare la polizia, aumenta la stratificazione sociale, vuol dire che arrivano i ricchi e arrivano i poveri. Nasce il vino, nasce la birra, anzi, la birra non è una battuta, la birra è un espediente microbiologico che ha permesso alle popolazioni umane di purificare le acque infette, perché finché l'uomo faceva il cacciatore e il raccoglitore, si spostava da una sorgente a quell'altra, quindi l'acqua era sempre pulita. Quando aveva ben cacato un accampamento, si spostava da quell'altra parte e quindi non aveva problemi di malattie infettive. Le malattie infettive non esistevano praticamente. Nel momento in cui diventa stanziale, rimane in quell'ambiente, in quell'ambiente fai i tuoi bisogni, le acque diventano infette. Cosa ti fa la birra, la fermentazione? Ti permette di abbattere la carica batterica delle acque, e quindi di consumare quelle acque che prima non potevi consumare. Questo perché gli metti dei ceppi batterici che per competizione si sovrappongono a quelli patologi. A parte questo, comincia la deforestazione, comincia il cambiamento climatico, nascono le prime città, le prime guerre, si sviluppa la tecnologia. Questa cosa qua la chiamano civiltà. E quindi, finalmente, dopo 4 milioni di anni di evoluzione, eccoci qua. Ma, ma c'era bisogno di 4 milioni di anni per diventare questa cosa qui? Abbiamo visto il paleozoico, il mesozoico, questa è la nostra produzione, sembra una palla di merda fatta da uno sterco raro, ma questa è la produzione dell'attività biologica del genere uomo, nostra. Purtroppo noi siamo quelli, e quello è quello che facciamo. Il periodo geologico attuale si chiama Antropocene. È il periodo che comincia con lo sviluppo dell'agricoltura e della tecnologia. Da 10.000 anni fa ad oggi noi viviamo dell'Antropocene, l'età dell'uomo. Cosa faremo nel futuro? Intanto di sicuro stiamo distruggendo il pianeta, perché il riscaldamento globale non è un'invenzione, è un dato, è una realtà. Ci porterà certo verso strati di Gaia diversi, ma mentre Gaia ha tenuto il pianeta freddo, l'ha raffreddato per 4 miliardi di anni, noi lo stiamo riscaldando in maniera. Nascerà il tanatozoico, tanatozoico vuol dire l'era degli animali morti. Sarà questo il nostro futuro? Questo è l'ultimo libro di Lavlock, Gaia, ultimo atto. In realtà non finisce in maniera così drammatica. Lui dice, può darsi che la vita sulla Terra, a conti fatti, è arrivata quasi alla fine. Dopo 4 milioni, miliardi di anni di evoluzione, il pianeta è stanco, non ha più CO2 da allevare, non può più raffreddare il pianeta con i soliti metodi. Quindi, comunque sia, Gaia ha al massimo qualche centinaio di milioni di anni di vita. Per noi sono più che sufficienti, e per carità di Dio, ma Gaia ha vissuto per un quarto dell'età dell'universo. Ora è vecchia, è l'equivalente di un uomo di 80 anni, è arrivata all'ultima fase della sua vita. Cosa può fare Gaia per raffreddare ulteriormente questo pianeta? Bene, Gaia potrebbe aver usato una strategia diversa. L'uomo oggi è in grado di distruggere il pianeta, ma è anche in grado tecnicamente di sviluppare delle strategie, delle tecniche, delle tecnologie che gli permettono di raffreddarlo. Per esempio, disponendo degli ombrelli intorno al sole, per esempio, mettendo degli aerosol in orbita che riflettono la luce del sole, eccetera. Cioè, noi possiamo essere interpretati come una malattia, come un virus che si è sviluppato per caso e che quindi porterà questo pianeta, Gaia, alla morte, oppure possiamo essere uno strumento. Uno strumento attraverso cui Gaia sviluppa la possibilità di fare altri interventi. Non so se noi arriveremo all'età di vedere il risultato, probabilmente no, ma io spero proprio che voi vi mettiate d'impegno e studiate e facciate un coso grosso così non per passare questo esame, ma perché il futuro del pianeta è vostro.